Il mandala è il simbolo della religione buddhista, un significato forte per quella religione, ma io ho solo posto il mandala come nostra immagine per la nuova generazione, per la nostra generazione, che deve guardare oltre, in modo più positivo, al ventunesimo secolo. Così l'abbiamo chiamato Space Mandala, il mandala dello spazio, uno spazio piccolo, non inteso in senso religioso, ma spaziale, e vi abbiamo introdotto molti suoni differenti, ma noi rispettiamo le cose tradizionali, infatti suonando il flauto e i corni che prendiamo dalla tradizione, noi rispettiamo le antiche tradizioni, le fondiamo con il nuovo, in una mescolanza di culture e scambi incrociati. Oggi dobbiamo apprendere le tradizioni e passarle alle nuove generazioni.